Buongiorno a tutti, oggi è sabato 9 ottobre, sono le 7.27 e facciamo una rapidissima pillola di analisi ciclica voluta su Bitcoin. Siamo andati a un pelo dal colorare di rosso questa candela giornaliera, quindi siamo nell'ipotesi 2, ovvero che il nostro mensile inverso, TP2 inverso, si sia chiuso a 30 barre e qui si sia su un raccordo inverso. Che cosa possiamo aspettarci entro oggi o al massimo fino a dopodomani? Possiamo aspettarci che si provi a ritornare sopra al massimo a 56.000 dollari o in zona. Solo successivamente potrà partire un nuovo TP2 inverso portando discesa. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata e uno splendido weekend. Arrivederci!